Ciao a tutti ragazzi, io sono Raffaele, oggi siamo su TrollFage Quest! Sarri di! Ok! Ok! Ah devo spegnare la D2 per passare al prossimo livello! Il cavo giusto è sempre quello rosso! Lo sapevo che era quello blu, lo sapevo! Allora TrollFage Quest è un gioco in cui vieni trollato da 2 livelli! Come infatti sta succedendo adesso? Questo non è lo trollato da 8 livelli! Oh! Nel filo rosso, nel filo blu, nel filo verde che devo fare allora? Non è che forse... Lo sapevo! Ah! Sempre quella rossa vero? Ah quella blu! Perché un sorriso? Io lo dico sempre che sembra quella rossa! Oh eh che cosa allora? Devo cliccare lui! Lui devo cliccare! Cosa? Ma che cavolo è successo? Ok! Ah di farla pipì! Ok! Bagno dei maschi! E bagno delle femmine! Ho il bagno dei maschi! Cioè ho il bagno delle femmine e bagno dei maschi! Questa porta è rosa! Questa invece è verde acqua! Oh! Apri la porta! Apri la porta! Apri la porta! Metti la chiave nell'occhio! Allora qui! Oiga che devo fare! Oiga che devo fare! Dopo 5 ore per capire cosa devo fare! Ho scoperto cosa devo fare! Ok! Vabbè! Cos'è? Ah è gas! Proviamo con questa! La maschera anti gas! Beh sarà quella! Non è quella! Ah è quella! Ok! La nuvola! Posso cliccare la nuvola! E mi ha ucciso! Che devo fare? L'arco! Ok! Ma se mi esserano sparate con l'arco con l'arco sarebbe successo! No un attimo! Se mi esserano sparate con l'arco cosa sarebbe successo? Ah ecco! Ucciderebbero! Vorrebbero ucciso! E ora che è sta roba? Il torrista! La conosco! Ok! Allora questo! Non errore almeno quello! Che devo fare? Allora! Non lo devo uccidere! Ho visto che lo potevo toccare! Certo! Questa serriera! Ah! Un costume! Mezz'ora per trovare quella giusta del costume! Aspetta! Un elefante! Una talpa! Io! Un mille piedi! Ok! Oddio! Oddio! Vai! 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 Muoviti! Presto! Presto! Io ciò porrocca cosa non vada bene quindi mi fermo qua! E poi! Prendete questa! Che devo fare qua? Che cosa c'era il trollfish questo? Qua! Qua! Clicca dieci volte su trollfish questo! Ok! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10! Ok! Cosa? L'error è su lui! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10! Lo sapevo! 50 e 50! 50 e 50! Ma devo dire che io a 50 e 50 sbaglio sempre! Telefonata! L'ora che devo fare? La roccia? Non è nemmeno la roccia! Ah! Stop! Non è stop! Sono già da quattro ore questo! Qui! Ed era win! Ah! Perfetto! Perfetto! La carmella! A finish! Ma io tanto già lo so che non sarà così facile! Già lo so che tra poco qui viene una tro... Una mega trollata! Gre... Verrezza! Clicca! Next level! Ok! Lo so che se l'avessi cliccato sarebbe successo qualcosa! Che è sta cosa? La macchina! Uè! Fuoco! 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 Perché? Io a questo gioco non ci volevo giocare però... Lo volevo fare... E quindi l'ho fatto! Vabbè! Uè! No, No, No! Fermo Fermo! Propriヤva! Ok! Clicca sul bott... Sul bottone verde... cento volte! Qualcosa mi dice che non sarà così facile! mi sta andando in pal di mano a prendere sto bottone di continuo già guardate io già lo so che all'uno succederà qualcosa io tanto già lo sapevo che sarebbe successo che? ah devo bere? ok cosa? ma qualcuno mi potrebbe spiegare perchè uno che sta schiacciando si deve bere alcune cose che lo fanno morire si può sapere sicuramente devo cliccare qualcosa di questi vediamo dove? qui questo ok next level clicca dieci volte sul trofeo c'è in dieci uno due tre quattro cinque sei sette otto nove questo questo dove è il dieci dove è il decimo lo sapevo jump salta ah è successo ho saltato questo che mi hanno triturato non ho costato nessun attimo ma che cosa c'è di questi cosi ah ecco perchè devo saltare questi cosi non devo cliccare niente se no perdo ci vengo triturato vorresti dirmi che me lo faresti ricordare questo no ah erra questo aspetta poi che cos'era e poi faccio poi tutto insieme poi devo e siamo di nuovo qui poi si chiama trollo link no basta ti prego no del capo no bravo ottimo ragazzi per questo qui ho agli pollicioni in su te lo scordi che faccio play agente vabbè ragazzi nel prossimo episodio farò questo trova face quest 2 hanno fatto pure il 2 e quindi nel prossimo episodio farò quello intanto mettiamo un attimo qui concludo l'episodio con questo che farà ok ciao ciao